Siamo Malpensa, siamo in partenza con la seconda parte della delegazione di Milano Cortina, verso Pechino. Ci sono anche gli atleti, Luca che sta aiutando la moglie e adesso andiamo a imbarcarci. Eccoci arrivati alla sala che precede il ritiro dei bagagli, abbiamo compiuto tutta la trafiga dei controlli, ci hanno immediatamente fatto un tampone, ci hanno validato questo, che è la cosa più importante attorno ai giochi, questa è la creditation card. Ovviamente non c'è il bidet ma c'è un dolce vasca tutto insieme. Questi credo che siano dei regali per il capodanno cinese, una tigre e questa è la mia vista. Siamo totalmente chiusi in una bolla, c'è l'hotel solo per noi e questa è Pechino. Grazie a tutti. Grazie a tutti.